Abruzzo al centro di una rivoluzione dei trasporti e della logistica e quanto sottolineato questa mattina a Francavilla al Mare nel terzo congresso della Fit Cisla Abruzzo Molise, dal titolo Cresciamo con trasporto, protagonisti nel futuro del lavoro che cambia. L'Abruzzo davanti sfide importanti, prima tra tutte la realizzazione della ZES, la zona economica speciale per gli scambi commerciali est-ovest, in cui saranno strategici i porti e la tanto agognata linea ferroviaria Roma-Pescara. L'Abruzzo dovrà adempiere al suo ruolo da protagonista, ha detto il segretario generale della Fit Cisla nazionale, Salvatore Pellecchia. Ma l'Abruzzo dovrà adempiere, questa è un'occasione unica per recuperare i ritardi strutturali delle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali. In passato c'è sempre stato l'alibi dell'assenza delle risorse economiche, oggi queste risorse economiche ci sono, le mette a disposizione l'Europa, vanno spese bene e nei tempi giusti per dare anche ai cittadini abruzzesi e del Molise quella opportunità che le infrastrutture mettono a disposizione.